Continua la bufera interna alla Teramo Ambiente dopo che la Procura della Repubblica di Teramo ha deciso di fare piena luce su alcuni appalti e affidamenti, acquisendo nella sede di Viadelfico diversi documenti che poi andranno al vaglio del magistrato. Situazione molto delicata a cui si va ad aggiungere anche la visita della Guardia di Finanza, degli ispettori INA e dell'ispettorato del lavoro. Dunque non c'è pace per la partecipata del Comune di Teramo, su cui lo stesso ente vuole fare chiarezza e soprattutto cambiare rotta. Sulle indagini ovviamente non entriamo, sono valutazioni che seguono un percorso rispetto al quale noi siamo ovviamente esterni, ma per rispetto alle indagini non facciamo alcuna valutazione. La questione invece del futuro della Tema è sempre una questione aperta, rispetto alla quale stiamo facendo degli approfondimenti legali, perché abbiamo una situazione che comunque resta molto ingarbugliata con il socio privato che è ancora in una fase di curatella fallimentare. C'è una proposta da parte di un privato alla curatella fallimentare, non all'interno del rapporto tra Comune e Teramo Ambiente, che è condizionato da una legge, quella regionale sull'Agir, che sebbene abbia avuto una proroga, comunque difficilmente consentirà di arrivare a una situazione in cui si possa giudicare un servizio da qui a qualche mese. Il Presidente, come sapete, non è stato indicato da questa nuova amministrazione. Abbiamo avviato un'interlocuzione da tempo, ogni nuova amministrazione dovrebbe poter gestire i rapporti con le società partecipate nell'interesse dei cittadini e attraverso un indirizzo politico che li lega alla governance. Al momento resta questa gestione. Noi già da tempo abbiamo chiesto comunque la disponibilità a rimettere il mandato e consentire alla nuova amministrazione di poter arrivare alle indicazioni secondo quelle che sono le linee. Questa è cosa ormai nota, anche perché, ripeto, è fondamentale in questo momento che ci sia la massima stabilità nei rapporti tra il Comune e la sua partecipata, considerando soprattutto una cosa che oggi il Comune di Teramo è non solo il socio, continua ad essere il socio principale, ma l'unico cliente della Teramo Ambiente.